A diversi anni dalla chiusura dell'azienda di Casale Monferrato che lo produceva, l'Ethermette che ne ricorda il nome continua a far parlare di sé e purtroppo a creare danni all'ambiente e pericoli alla salute. Pannelli di copertura e isolamento e condotte infatti continuano ad essere presenti in abitazioni e strutture industriali in tutta la penisola. Fino a quando restano al loro posto i problemi sono quasi zero, il pericolo si presenta quando vengono rimossi, il più delle volte senza le dovute attenzioni. Un vero e proprio allarme amianto, le cui fibre sono contenute all'interno dei manufatti in Ethernet che periodicamente si ripresenta anche a Salerno. E di ieri la protesta dei genitori della scuola primaria di Matierno che non hanno fatto entrare in classe i loro figli, denunciando la presenza dei rifiuti tra i quali i pannelli di Ethernet davanti all'istituto. E di oggi una segnalazione che arriva da Santi Ostacchio, altro quartiere periferico di Salerno, stavolta il ritrovamento è ancora più ingente. Nei giorni scorsi gli abitanti si sono ritrovati con un vero e proprio cumulo di Ethernet, evidentemente frutto di un intervento di ristrutturazione in un edificio con la rimozione di una vecchia condotta di sfiato o quant'altro realizzata nel micidiale materiale. Una vera e propria bomba ecologica a causa delle condizioni nelle quali è stato abbandonato in via Cupa Parisi, forse dopo una rimozione frettolosa ed effettuata da personale non qualificato. Un rischio quindi sia a monte per chi è intervenuto e poi ha scaricato il materiale e a valle per gli abitanti della zona. Dopo aver segnalato il problema alla polizia municipale, il comune di Salerno è intervenuto per transennare l'aria e coprire in qualche modo l'Ethernet in attesa di una bonifica accurata che avverrà nei prossimi giorni. Il problema però rimane ed è legato al dilagante fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti di ogni genere e anche pericolosi lungo le strade periferiche di Salerno. Nella stessa zona infatti da tempo si è creata una discarica abusiva con spazzatura e vecchi televisori, a volte anche date alle fiamme con il rilascio nell'ambiente di altre sostanze inquinanti. È stato un intervento ovviamente simbolico perché è stato coperto con un telo di plastica in bianchini che non reggerà al primo vento. È un simbolo peraltro anche di quanto il problema ambientale in questa città sia poco compreso anche dagli amministratori. Qua ci troviamo nel territorio comunale di Salerno, all'inizio di una valle che è un posto bellissimo, è la di Giovi, potrebbe essere un paradiso. Di fatto le riprese che abbiamo, questo sconcio che abbiamo qua, ci prova che può essere anche un inferno ed è prova del fatto che quella che è la più grande risorsa di questo paese, l'ambiente e il territorio, non soltanto non viene difesa e valorizzata ma non viene neanche capita, non viene capita dalla gente e non viene capita da chi dovrebbe proteggerlo. La preoccupa è che comunque una vera e propria discarica ce l'ha aperta, insomma. Questa è soltanto una delle tante, quella più visibile perché sta lungo la strada, ma tutta la valle di Giovi è un'unica immensa discarica, dappertutto. Se lei si sposta altri 20 metri lì, ce ne sta un'altra. Guardi qui intorno, il degrado di questo territorio, abbandonato a se stesso e sfruttato, violentato quotidianamente in tutti i possibili modi, incendi, pascolo abusivo, discariche di ogni tipo. Ci si fa belli presentando la vetrina buona della città, che è bella, almeno in termini relativi la nostra città figura bene nel contesto campano, ma ovviamente ci si guarda bene dal mostrare che cosa accade appena un chilometro fuori dal centro. Ecco, quello che accade sta qui sotto gli occhi di tutti e nell'indifferenza di tutti.